Vabbè, fai un fio di scuola, poi dico uno, ma fai un fio di scuola per forza, mi dico. Eh, tu, guarda che è una questione di diritto. Prosegua ad Arezzo l'incontro della Generazione Z con il teatro. Sul palco del teatro Pietro Aretino di Via Bicchieraia, lo spettacolo Salto di Specie, proposto dalla compagnia Controcanto Collettivo. Salto di Specie è un'indagine sul tema dell'empatia tra esseri viventi e sui meccanismi che ne favoriscono e ne arrestano il flusso. Si parla di comunicazione tra esseri viventi, quindi tra esseri umani e non umani in questo spettacolo. Si parla della possibilità di allargare il cerchio della nostra compassione. Io dici niente. È maschio o femmine? Ah, no, meglio, lo stavo lì, è maschio. No, per un senso. Sì, certo, io dicono meglio. Ma io maschio o maschio? Io, per esempio, mi trovo meglio capi. Però sempre tu più vedi. Il tentativo, non solo con questo lavoro, quanto in generale con i lavori, è quello di provare a mettere una lente di ingrandimento su un tema che secondo noi è un nodo o cruciale o anche solo interessante, cioè che ci interessa della nostra società. Quindi se qualcuno alla fine del lavoro dice Ah, ok, a questa cosa ci ripenso, è già un successo. Quindi non vogliamo far comprendere, magari anche solo pensare un po' a quello che abbiamo detto.